Buonasera, mi state scrivendo in tanti per il post con le foto che ha pubblicato la signorina Federica e allora vi rispondo direttamente qua. Volevo dire appunto a lei che ha anche un po' rotto le palle con questa storia con questa storia delle foto ricordo. Se era così importante questo ricordo, una volta risolti i problemi in famiglia che mi spiace assolutamente se ci sono stati veramente comunque una volta risolti potevi scendere a riprendertelo. Visto che tutto questo non è stato fatto, siamo arrivati alla fine di un percorso a distanza di mesi dove già siamo abbastanza in bilico per tutte le cose che stanno uscendo e le anticipazioni le avrei lette anche tu. Quindi ti pregherei ti pregherei gentilmente di accantonarti e di farti una manciata di fatti tuoi visto che ci sono persone che sono lì dentro da mesi e che hanno costruito un percorso non capisco ora per due o tre volte che hai visto una persona a mezz'ora che cosa ti possa spingere a distanza di cinque mesi che non vedi una persona a scrivere quelle cose e fare quelle allusioni per far arrivare che cosa a casa, fammi capire. Sei solo una malata di follower. Questo ho sempre pensato e lo continuo a pensare tutt'oggi. Anche perché adesso hai bloccato i commenti della foto ma fino a poco fa hai risposto a tutti quanti facendo allusioni dicendo che tu e Mariano vi siete detti delle cose dietro le quinte che sappiate solo voi a me non mi sembra che la redazione abbia mai giocato A me non sembra che la redazione abbia mai giocato sporco o si siano comportati nei nostri confronti in maniera scorretta quindi mi dispiace per te cara ho già fatto gli screenshot. Buonasera